minasan konnichiwa giapponese con miru e yoko so ciao a tutti e benvenuti su giapponese con miru questa sarà una lezione di kanji di vocabolario ma anche un po di grammatica un mix insomma iniziamo studiando un kanji nuovo in questa lezione vedremo due kanji nuovi e questo è il primo si tratta dei kanji di ya che significa negozio o attività commerciale in realtà ya ha diversi significati ha diversi usi però per il momento mi basta che voi associate questo kanji semplicemente all'attività commerciale è un kanji un po particolare deriva da questo pittogramma dove vediamo un tetto sotto il quale c'è verosimilmente una freccia infilzata nel terreno e che si trova in una posizione verticale perché è un kanji particolare perché questo tetto è un tetto che ha questa sorta di bocca non questa sorta di spazio questo tetto particolare si chiama shikabane shikabane quindi il radicale di questo kanji si chiama shikabane e significa corpo morto cadavere si può chiamare shikabane oppure shikabane kamuri kamuri significa corona no quindi shikabane o shikabane kamuri di solito appunto ha una relazione con la morte ma non in questo caso sebbene in questo caso vorrei che voi associaste il kanji di ya al negozio all'attività commerciale c'è da dire che un altro significato forse il primo vero significato di questo kanji è il kanji di abitazione dimora posto dove si vive casa o anche posto dove si arriva si arriva dove si giunge quindi c'è questo tetto con questa freccia infilzata però vi ripeto ora lo impariamo come kanji che esprime il significato di negozio si tratta di un kanji a nove tratti non è difficile da scrivere allora facciamo prima lo shikabane kamuri che sono tre tratti uno due tre poi quattro cinque sei e poi facciamo la terra sette otto nove lo rifaccio shikabane kamuri uno due tre quattro cinque sei sette otto nove ya al lato pratico vediamo che il kanji di ya compare quasi sempre a fine parola descrive l'attività commerciale ma anche il mestiere o comunque un mestiere che poteva essere un mestiere di famiglia per esempio compare in parole come pan ya pan ya che significa il panettiere quindi noi in italiano diciamo il panettiere appunto come mestiere no diremmo il forno quindi pan ya il forno il negozio che vende il pane il panettiere il negozio che vende libri si dice con ya con ya con ya attenzione a staccare il suono della n alla ya che entra quindi con ya con ya con ya il fioraio si si dice fiore più negozio anaya anaya questo è il kanji di kutsu scarpe negozio di scarpe si dirà kutsuya negozio di calzature negozio che vende scarpe infine c'è una parola un po' particolare che ho deciso di scrivere in hiragana per non appesantirvi tanto a me interessa che in questa lezione impariate questo di canji però la parola ya o ya è una parola comunque importante che vorrei che voi imparaste ya o ya significa negozio che vende frutta e verdura il fruttivendolo in pratica ya o ya fruttivendolo allora il secondo canji che vediamo in questa lezione è un canji che compare all'interno di un verbo in particolare nel verbo ur che significa vendere si tratta di un verbo che forse noi abbiamo già visto forse nella fantomatica lezione 20 non mi ricordo bene comunque questo è il verbo ur e significa vendere ma per potervi spiegare questo canji devo fare un passo indietro e tornare alla spiegazione del verbo cow cow è un verbo che abbiamo già studiato e significa comprare vi ricordate che cow deriva da questo pittogramma dove vediamo in nero una rete che raccoglie delle conchiglie la conchiglia questa parte in rosso no che diciamo è relata con il denaro di solito questo pittogramma significa in realtà come un accaparrarsi qualcosa che si vuole quindi io mi accaparro qualcosa che voglio quindi la compro adesso la cosa interessante è che il pittogramma da cui deriva il canji di è molto simile al pittogramma che abbiamo visto appunto in cow abbiamo la stessa rete lo stesso oggetto del desiderio che mi sono accaparrato e in più c'è una parte in verde una parte aggiuntiva che rappresenta una parte diciamo un qualcosa di concavo come una buca dal quale esce un piede un piede che fa per levarsi per uscire da questa conca il significato di questo pittogramma è che qualcosa che io mi sono accaparrato e quindi ho comprato conseguentemente la vendo quindi questo piede che fa per levarsi dalla buca significa esprime il concetto di uscire qualcosa che io avevo prima acquistato e poi esce da me e la vendo questo spiega il perché anticamente il cangi di ur si scriveva in questo modo cioè vediamo in verde questa parte che rappresenta un piede che si leva poi vediamo esattamente il cangi del verbo comprare perché effettivamente il pittogramma è lo stesso solo che questo cangi a seguito di una ulteriore semplificazione è diventato così dove possiamo riconoscere il piede questa parte la rete di cui ora non sono presenti tutti i tratti ma solo due e poi la conchiglia che viene diciamo stilizzata a tal punto da avere solo le zampette adesso che abbiamo capito l'origine di questo cangi lo andiamo a scrivere è un cangi a sette tratti non è difficile lo scriviamo insieme allora facciamo i primi tre tratti ma facciamo attenzione che questa parte non è la terra il terzo tratto è più corto del primo quindi facciamo uno due tre il terzo tratto è più corto del primo 45 poi facciamo le zampette 6 a scivolare 7 a fare l'angolo col gancio lo rifaccio 1 2 3 4 5 6 a scivolare 7 angolo gancio adesso che abbiamo studiato cangi e vocabolario è il momento di mettere tutto insieme e di fare un po' di grammatica in particolare vedremo una caratteristica della forma te iru dei verbi allora vorrei scrivere insieme a voi una frase questa frase non l'ho scritta perché vorrei pensarla insieme la frase in italiano è i libri dove si vendono oppure i libri dove vengono venduti oppure dove si vendono i libri siete in grado di costruire questa frase forse sì forse sì forse no è un po' particolare allora i libri dove si vendono allora i libri dove vengono vendono 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 vend Allora, vediamo un po'. Il soggetto logico è la parola 本, libro, libri. Quindi usiamo il marcatore del soggetto logico わ. Dove si vendono? Vendere è un tipo di azione che accade in un certo posto e quindi dobbiamo usare la particella de che esprime il complemento di stato in luogo quando si verifica un'azione. Poi, questa è la cosa che vorrei dirvi, ho scritto il verbo ur nella sua forma in te, perché essendo ur un verbo che finisce in ru e un verbo della coniugazione godan, la forma in te è utte. Quindi, 本はどこで utte imasか? La forma te più imasu. Allora, forse ancora per voi non è, diciamo, naturale utilizzare la forma te imasu. Forse voi avete pensato di utilizzare semplicemente il verbo urimasu, urimasuか. Magari nella vostra testa c'era questa frase. 本はどこで utte imasu? Questa è la cosa interessante della forma in te. Quando un'azione è, diciamo, normalizzata, quindi è riconosciuta, è normalizzata, è una cosa normale, o comunque quando si tratta di un'abitudine, di qualcosa che accade come un'abitudine, con una certa cadenza, quindi come una cosa normalizzata, appunto, in questo caso, in giapponese si preferisce usare la forma te iru del verbo. Quindi, dove si vendono, ecco, in italiano si vendono, vengono venduti, sembra una costruzione passiva della frase, no? In giapponese no, possiamo tranquillamente utilizzare la forma attiva del verbo. 本はどこで utte imasuか? I libri. Dove vendersi? Vendere, vendersi. Dove si vendono? E la risposta a questa frase sarà sicuramente i libri si vendono in libreria. I libri si vendono in libreria. Siete in grado di pensarla in giapponese? Adesso forse sì. Allora, la scriviamo anche questa insieme. I libri si vendono in libreria. 本は本やで utte imasu 本は本やで utte imasu 本は本やで utte imasu 本は本やで 本やで utte imasu Vado un po' spedito. Ecco che la grafia non è il massimo, ma vabbè, si legge. Quindi, 本は i libri in libreria si vendono. Ho usato la forma in te imasu nella domanda e ho usato la forma in te imasu anche nella risposta. 本はどこで utte imasuか? 本は本やで utte imasu Adesso vi lascio i compiti. Allora, come compito vi lascio queste quattro domande a cui rispondere. Se vi va, vi invito a scrivere sia le domande che le risposte. Fare magari una fotografia con il cellulare al foglio che avete scritto a mano e magari postarla anche sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru, ma solo se vi va. Comunque, queste sono le quattro domande che sono state costruite sul modello che abbiamo appena studiato. Allora, la domanda uno dice La risposta per compito. Frase due Frase due Sono curioso di vedere le risposte. Ed eccoci arrivati a fine lezione e come vi ho detto si è trattata di una lezione che ha affrontato un po' di vocabolario un po' di kanji e anche una parte, diciamo, grammaticale. Dal punto di vista dei kanji abbiamo visto il kanji di Gia che ha diversi usi. Abbiamo visto che all'interno del kanji di Gia c'è questo radicale che è particolare che si chiama Shikabane o Shikabane Kamuri e che significa cadavere. Però, insomma, in questo caso vorrei che voi associaste il kanji di Gia all'attività commerciale. Poi abbiamo visto il kanji di Uru del verbo vendere. È un kanji molto semplice però visto che ha una storia un po' particolare ho voluto spenderci un po' di tempo. Infine, abbiamo visto anche diciamo accennato a questa caratteristica della forma in Tehiryu dei verbi. Ovvero, vi ho detto che la forma Tehiryu si utilizza quando c'è qualcosa di normalizzato o comunque un'abitudine. È normale che la panetteria venda il pane cioè una cosa che normalmente è abitudinaria quasi, no? Quindi una cosa normalizzata una cosa che è tipo un'abitudine vuole, preferisce la forma in Tehiryu. Questa è una cosa che io reputo abbastanza importante e quindi, diciamo, ci tengo a puntualizzare. Però sicuramente lo rivedremo anche nelle lezioni successive. Io comunque spero che la lezione vi sia piaciuta. Vi invito a venirmi a trovare sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Vi invito a mettere un pollice up a condividere con i vostri amici e a fare l'iscrizione al canale. Insomma, fa sempre piacere. E comunque noi ci vediamo nella prossima lezione. Ciao, matanì!